Seconda parte del nostro telegiornale, arrestato a Ragusa un dipendente comunale di 51 anni accusato di avere violentato le figlie della convivente a denunciare l'agghiacciante episodio il padre e la zia delle piccole. L'uomo è stato tratto in arresto mentre nei confronti della madre che secondo gli inquirenti era a conoscenza dei fatti è stato emesso il divieto di avvicinamento alle piccole vittime. Accusato di avere violentato le figlie della convivente ha arrestato un 51enne. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ragusa e quelli della stazione di Ragusa principale hanno arrestato un ragusano 51enne e applicato alla sua convivente il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime. Verso la metà del mese di gennaio scorso si erano presentati presso la stazione dei carabinieri di Ragusa una donna con le nipoti di 12 e 14 anni raggiunte poco dopo dal padre delle stesse. L'uomo e la sorella hanno riferito ai militari che le bimbe erano state vittime di violenza sessuale da parte del convivente della madre. Immediatamente gli uffici di polizia giudiziale della stazione di Ragusa hanno informato il pubblico ministero la dottoressa Claudia Maone la quale ha voluto parlare subito con le bimbe per avere chiarezza della situazione. I carabinieri hanno quindi ascoltato altre persone a conoscenza dei fatti e riferito il tutto al pubblico ministero. Dalla notevole quantità di accertamenti svolti è emerso che il 51enne ragusano dipendente comunale avrebbe in più occasione negli ultimi 2-3 anni abusato delle figlie minori della propria convivente, una casalinga 35enne. Quest'ultima, pure a conoscenza dei fatti, non avrebbe fatto nulla per impedirli e proteggere le proprie bimbe in qualche maniera. E così, avuto un chiaro quadro informativo e ritenendo la presenza di gravi indizi di colpevolezza, il pubblico ministero è apatizzato a carico dei due il reato di violenza sessuale su minori pluriaggravata e continuata in concorso e richiesto al giudice per le indagini preliminari di emettere per la madre il divito di avvicinamento alle bimbe e per il convivente la custodia in carcere. L'indagato principale è stato accompagnato infatti nel carcere di via Giuseppe di Vittorio. Alla madre delle vittime è stato intimato, come detto, di non avvicinarsi in alcun modo a meno di 200 metri dalla scuola e dalla casa dove esse vivono e di non contattarle mai in alcun modo. Le due giovani, ovviamente, sono state poste sotto la tutela dell'altro genitore. La Guardia di Finanza ha sequestrato gasolio agricolo di contrabbando, un kit per rigenerare cartucce di fucile e attrezzi agricoli rubati. Denunciati due rumeni. Due coniugi rumeni sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Vittorio per ricettazione e detenzione illegale di munizioni e in debito utilizzo di gasolio agricolo. I finanzieri, a seguito dell'accesso presso un casolare abitato dalla coppia dei tre figli minorenni, hanno sottoposto a seguito tutto il materiale illegitamente detenuto, seguendo le disposizioni impartite dal sostituto procuratore del dottore Marco Rota. Nell'ispezionare la zona è sorti immediatamente il sospetto di condotte illegite, data la presenza di decine di bidoni in plastica cadastati proprio all'esterno della casa. I finanzieri, infatti, aprendo circa 40 contenitori in plastica rinvenuti sotto un tappeto, hanno potuto riscontrare la presenza di oltre 700 litri di gasolio agricolo. Ciò è stato immediatamente verificato in virtù della sinergia con l'Ispettorato dell'Agricoltura, che consente a tutti i comandi della Guardia di Finanza di usufruire di tutti gli elenchi della concessione di gasolio agricolo. Non essendo di pertinenza di un'azienda agricola, il gasolio rinvenuto non aveva alcun motivo di essere lì. Tra l'altro, gli abitanti della casa non ne hanno saputo giustificare la detenzione. Si è così configurato il reato di sottrazione di prodotto al pagamento dell'accisa, punito dal testo unico sulle leggi docanali. Su un armadio della cucina sono state trovate 28 cartucce, fiocchi, calibro 12 ed un vero e proprio kit per rigenerare cartucce di fucile. In virtù di questo ritrovamento, i due coneggi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per abusiva detenzione di armi e munizioni. L'attrezzatura sequestrata consentiva di costruire sia cartucce a piombo fino, sia cartucce a pallettoni. Di diversa foggia gli attrezzi rinvenuti, tra cui imbuti, spazzolino, calibri, stoppini, misurini e cucchiaini, il tutto per l'organizzazione di un piccolo laboratorio per la costruzione delle munizioni. Tre arresti per spaccio di droga sono stati effettuati dalla Polizia di Vittoria e di Modica nel centro storico della città Ipparina. I tre erano soliti spacciare anche a Modica. Spaccio di droga tra Vittoria e Modica, arrestati in tre. Nel tardo pomeriggio di ieri, il personale dei commissariati di Polizia di Vittoria e Modica ha tratto in arresto tra i cittadini tunisini responsabili dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, presumibilmente del tipo eroina. Gli arrestati, tutti domiciliati a Vittoria con numerosi pregiudizi di Polizia per reati di droga, Sono Moessen e Sufi di 32 anni, Soefedin e Nafti detto Ga o Spada di 22 anni e Wajinifti di 31 anni. Il terzetto è stato sorpreso nel centro storico di Vittoria all'interno di una faticente abitazione che avevano adibito a centrale dello spaccio. Infatti l'arresto è scaturito da una prolungata attività di osservazione e pedinamento che ha consentito di accertare esattamente il luogo in cui era detenuto lo stupefacente e in cui si recavano i tossicodipendenti che da tutta la provincia convergevano per l'acquisto. I poliziotti abilmente nascosti hanno potuto accertare uno scambio di stupefacente avvenuto sulla pubblica via tra uno degli arrestati e un assuntore proveniente da Ragusa. Quest'ultimo, dopo aver acquistato lo stupefacente, è stato controllato dagli agenti e trovato in possesso di una dose di eroina che confermava di aver acquistato poco prima. I poliziotti hanno fatto irruzione all'interno di una casa in Pia Marsala in cui aveva fatto rientro un giovane pusher subito dopo la gestione. All'interno sono stati trovati tre cittadini turisini e altre dosi di stupefacente per un totale complessivo di 2,64 grammi insieme a un milancino elettronico e materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente. Trovati numerosi telefoni cellulari utilizzati per mantenere contatti con gli assuntori e la somma di 770 euro in banconote di piccolo taglio come provento dello spaccio atteso che gli arrestati risultano tutti nullafacenti. Gli arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione delle autorità giudiziarie competenti. Gli agenti della polizia stradale hanno denunciato 7 persone. Vediamo perché nel servizio. Denunciate 7 persone dagli agenti della polizia stradale di Vittoria. Sono tutte accusate di omessa custodia di veicolo sottoposto a sequestro. In particolare si tratta di un mittoriese di 34 anni, di due romeni di 24 e 23 anni, di due albanesi di 33 e 34 anni e di due tunisini di 33 e 27 anni. I 7, tutti i residenti a Vittoria, erano stati sanzionati per mancata copertura assicurativa ed era stato loro affidato il mezzo sottoposto a sequestro. A seguito del mancato pagamento della multa, la prefettura di Ragusa ha emesso il provvedimento di confisca dei mezzi, ma quando gli agenti si sono portati presso i luoghi di custodia hanno accertato che tutti e 7 si erano nel frattempo disfatti del mezzo sottoposto a sequestro. Per tale ragione sono stati deferiti alla procura di Ragusa. Guida una Porsche senza neanche avere la patente di guida. Un 24enne ragusano è stato denunciato e l'auto sequestrata per la successiva confisca. Scorrazzava a grande velocità a Pozzallo a bordo di una Porsche, ma senza avere mai conseguito la patente di guida. Un 24enne ragusano aveva destato seria preoccupazione tra i cittadini del comune pozzallese, spaventati dal serio rischio corso dai pedoni anche in pieno centro abitato. La polizia stradale di Ragusa allora ha predisposto a un servizio di perlustrazione che ha consentito di individuare nel pomeriggio di ieri il giovane a bordo di una Porsche Boxster nera. Gli agenti lo hanno allora fermato in Miale Australia. Il ragusano è risultato essere senza patente perché mai conseguita e senza cinture di sicurezza. Nelle accertamenti presso i terminali è emerso inoltre che era stato già denunciato un anno prima per lo stesso motivo, cioè guida senza patente. Avendo reiterato il reato nell'arco di due anni, la Porsche è stata sequestrata per la successiva confisca. Forse è un caso di malasanità alla base della morte di un 55enne modicano accaduto all'ospedale maggiore. Sarà l'autopsia chiarire se Giovanni Gerratana, 55enne modicano, sia stato vittima di un caso di malasanità o se la sua morte sia stata provocata da cause naturali. A disporre l'esame autoptico è stata la procura della Repubblica della Contea dopo l'esposto presentato dai familiari dell'uomo morto il lunedì di Pasquetta. Gerratana, paraplegico dopo un intervento per un'ernia cervicale, era stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso con un'ambulanza del 118 ma, pare dopo una lunga attesa, le sue condizioni sono peggiorate fino alla morte. Secondo i familiari alla base del decesso ci sarebbe negligenza e imperizia da parte del personale sanitario ma adesso sarà l'autopsia, prevista per domani, a svelare la verità. Dall'ospedale dicono di avere fatto tutto il possibile per rianimare l'uomo che, secondo il rapporto stilato dai medici, sarebbe morto per embolia polmonare. Ma, dicevamo, i parenti vogliono essere sicuri che non ci sia alcuna responsabilità del personale intervenuto e che si sia fatto tutto il necessario per scongiurare il tragico epilogo. Sequestro di Baia Samuele e Marsa Sicla ha fissato l'incidente probatorio per il prossimo 19 aprile. Si svolgerà il prossimo 19 aprile l'incidente probatorio in merito al sequestro delle due strutture Baia Samuele e Marsa Sicla di San Pieri. Una decisione che allungherà i tempi dell'intera faccenda. Nonostante i legali difensori avessero spinto per il dissequestro delle due strutture in mista dell'imminente stagione estiva. Il GIP nominerà allora il 19 aprile un nuovo consulente tecnico d'ufficio che dovrà stilare una relazione finale che sarà poi allegata a quella dei tre tecnici di parte che, nelle loro relazioni, avevano presentato conclusioni diverse da quelle presentate dal primo tecnico nominato dal Tribunale che avevano portato al sequestro delle strutture. La vicenda, lo ricordiamo, era scoppiata a metà gennaio. Il sequestro era stato disposto dopo mesi di indagini da parte della Procura della Repubblica e dei carabinieri seguite alle ripetute segnalazioni di degrado ambientale della spiaggia di Marina di Modica. Le ispezioni avevano rilevato la presenza di un forte inquinamento che si riteneva dovuto ad uno sversamento in debito di rifiuti nel tratto di mare antistante alla spiaggia di San Pieri, dove appunto insistono le due strutture ricettive. Le indagini hanno consentito di appurare che all'interno dei villaggi vi erano gravi carenze strutturali che rendevano non conforme alle normative vigenti lo smaltimento dei rifiuti e lo scarico dei rifiuti liquidi. Sono emerse inoltre carenze di adeguati controlli da parte delle autorità comunali preposte. L'ASPE di Ragusa, a seguito di una direttiva dell'Assessorato regionale della salute, informa ai cittadini titolari del diritto all'esenzione ticket che la scadenza del certificato fissata per il 31 marzo è stata prorogata al 30 giugno. Si precisa che le categorie beneficiari della proroga sono E01, E03 e E04. Resta invece la scadenza del certificato di esenzione al 31 marzo per la categoria E02. Con questa notizia termina il nostro telegiornale. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sul nostro sito all'indirizzo fritvonline1.it e sulla nostra pagina Facebook e fritvcomiso. Grazie per essere stati con noi, a domani! Grazie per essere stati con noi, a domani!